Le eccezioni presentate da alcuni legali della difesa fanno slittare al 16 aprile l'udienza preliminare del processo sull'inquinamento e la mancata bonifica dell'area ex-falc di Novate Mezzola e della discarica del giumello di Samolaco. Quali eccezioni sono state presentate oggi? In merito alla costituzione di un paio di parti civili che sono state ritenute non legittimate e poi sulla nullità del capo di imputazione. Si riferisce alla parte civile al comitato di Novate Mezzola? Sì, una delle due era questa. Questa è medicina democratica, mi pare si chiami l'altra. Perché? Hanno ritenuto che non potevano costituirsi parte civile. Insomma, secondo i legali della difesa il capo di imputazione non sarebbe specifico, quindi è stata chiesta la nullità dell'imputazione. Non sarebbero stati messi a disposizione alcuni atti violando così il diritto alla difesa. Inoltre non avrebbero i requisiti per costituirsi parte civile il Comitato Popolare di Novate Mezzola e l'Associazione Medicina Democratica. Nessuna contestazione invece per la costituzione di parte civile del Comune di Novate Mezzola che chiede un risarcimento fino ad un massimo di 2 milioni di euro e per lega ambiente presente in aula per l'accusa il PM Marialina Contaldo. Sulle eccezioni presentate il giudice Antonio De Rosa si pronuncerà nell'udienza di aprile. Se dovesse respingerle si proseguirà con la discussione all'esito della quale il giudice potrebbe decidere o il non luogo a procedere o il rinvio a giudizio. Nessuno ha chiesto riti alternativi. Se invece accogliesse le eccezioni ci sarà una regressione alla fase preliminare con un nuovo aggiornamento dell'udienza. Il processo conta 13 imputati, 3 società e 10 tra funzionari pubblici e imprenditori accusati a vario titolo di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici con certificazioni di avvenuta bonifica e messa in sicurezza in difformità rispetto alle norme vigenti ma anche la redazione di atti pubblici ritenuti dall'accusa falsi rispetto ai campionamenti delle acque con prelievi giudicati non conformi. Inoltre a carico di soli 3 imputati l'accusa di omessa bonifica. Ha rinviato al 16 aprile questioni tecniche, procedurali preliminari. Ok, non si è parlato di merito. È stata fissata un'altra udienza preliminare in cui il giudice scioglierà la riserva sulle eccezioni che sono state sollevate oggi. Noi abbiamo chiesto ovviamente di ammettere la Costituzione di parte civile in quanto riteniamo che il Comitato molto abbia fatto anche durante le fasi delle indagini preliminari. Sappiamo che questo è un processo che viene molto da lontano, quello che auspichiamo che si possa procedere speditamente perché la richiesta da parte di tutti, soprattutto della cittadinanza di questi territori, è quella di vedere giustizia. Poi quale sarà giustizia lo devono dire i tribunali, però ci aspettiamo che almeno i tempi possano essere serrati. Intanto questa mattina mentre nell'Aula 12 del Tribunale di Sondrio si celebrava l'udienza preliminare davanti a Palazzo di Giustizia e rappresenta una delegazione del Comitato Popolare di Novate Mezzola, comitato che ora rischia di non essere ammesso in aula ma che presentando denuncia in procura si è rivelato decisivo per l'apertura del processo. Cosa chiedete? Beh, sempre di sapere la verità, che è giustizia e poi alla fine anche la bonifica, perché? Che si muovano le istituzioni in modo di farla questa bonifica. C'è il rischio che oggi il Comitato non venga accolto come parte civile? Sì, c'è questa possibilità e comunque noi ci siamo sempre, ci saremo sempre. Certo che se ci mettono come parte civile è un bel successo. Noi chiediamo che la verità sui fatti, vengono accertati i danni e si provveda alla bonifica. Non alla messa in sicurezza, noi vogliamo completa bonifica dell'area del Ex-Fac. Grazie.